Quasi Score Final Fantasy 7 Locandina e Safira del gioco attra solamente alla pubblicità occulta del caso Il primo Final Fantasy del PSP che nonostante un buon gameplay è una tema scadente, pieno di buchi e errori di continuità Sicuramente sono un errore che non verrà ripetuto Illusione di un fan medio alla quiz di Crisis Core Crisis Core Final Fantasy 7 Il film si è un prodotto Square Enix originale per PSP E quale miglior modo di iniziare se non sfruttando il successo commerciale del settimo capitolo E creando un abominio con personaggi che non si sa come sono finiti dove sono Un simile di combattimento basato sulla lotta della fortuna E una storia banale quasi scontata La cosa migliore è che questo capitolo riesce ad entrare in condizione non solo con l'originale Ma anche con il prequel, il film lo spara tutto Riuscendo a ritenere il privato come titolo in grado di dominare un interassare in un colpo solo Trama La più evidente è che non muro la rizza del trame di separato alla cazzo di cane Gira che si rigira, la storia è sempre la stessa Un giovane nupo di provincia di nome Zack Lavora come soldi e raccomperso energetico della scienza Famoso per l'altro risparmio energetico e minimità nell'ambiente Cosa della società Fatti tuttavia contestati Ripetitamente da malvaggi e infili attivisti di recambiente Questa volta, per essere originali, a Zack vengono affiancati Oltre agli onipresenti Claud e Sephiroth Due nuovi amichetti del paginato Smilt Tali Angel e Genesis Prende i baci le cose Un giorno il povero Genesis decide di dimulare la carriera del soldi Per fare l'attore dormatico Sfortunatamente non aveva letto la tipica pastilla scritta in minuscola del contatto Contatto La quale diceva che l'ha vincolata vita alla scena Angel viene spedito insieme a Zack e a Sephiroth per accattarlo Ma l'unico risultato ottenuto è quello di perdere anche Angel L'uso subito dopo che l'albino con la katana ha affincio di fare affetto e spirito e devocazione a caso A questo punto tocca a Zack andare a recuperare All'accattare i due dispersi E i risultati sono dati per la Tama molto più grande di quanto poteva essere stato immaginato Difatti dopo in tempi di fuga e aspi i combattimenti A Zack do accorci delle Angel Trasformatosi nel frattempo in uno dei rigori di Star Ocean The Last Hope Il quale l'idone alla sua morte il suo famoso spadone Buster sul passare in Futura Cloud Nel frattempo il protagonista si è anche fatta una certa fama davanti su delle belle troppe di città Un'agente segreta con la faccia di un coro e spinel E una fioraia del basso volgo che sicuramente non sarà mai sfidata con un dito da nessuno Inoltre di Sino Beffardo aveva fortunatamente interposto sul cammino di Zack L'ormai sono usato Cloud Il quale si era anche stufato di dover sempre fare la parte delle mole presso di turno Dopo un altro po' di tempo avviene quello che tutti conoscono Staphyloth perde la testa Cloud quasi si ammazza per effettare un roll up ai danni del patinato eroe E infine Zack e Cloud vengono inchiusi come il cave della brato da perché si I due poi fuggono e dopo un molto errore di conseguimento E un'anonima battaglia contro Genesis Anche Zack muore Sì anche lui non sapeva della postilla Lasciando lo spazio una Cloud Il quale dopo una toccatina Dobbino Fate verso quella che sarà la settima fantasia finale Personaggi Come facilmente notabile da questa immagine È evidente che Zack vale lo stesso collocchie di Bill Kaulitz Zack Fire Sopridovinato Zack il cane Zack il cucciolo O più semplicemente Zack il capelli Zack il capelli da Angel In teoria dovrebbe essere il protagonista di questo gioco Anche se controllarlo per troppo tempo Può causare crisi epilettiche imporsive Nonostante si mette più amici nel mondo di quanti Ne possa sperare un tutto a medio di 37 anni su Facebook Il migliore amico di Zack è E rimane Cloud Il quale è la sua volta così amico Che non solo le provoca la morte del soviestimate eroe Ma gli fotte pure sia la spada che la ragazza Potendo tra l'altro morire anche lei Zack quindi muore a causa dei tiro I proiettili dei soldati inseguitori Nel tentativo di salvare la vita Cloud Dopo essersi quasi fatto uccidere da Sephyloth No Dopo essersi quasi fatto uccidere da Sephyloth Essere stato inchiuso in un cilindro pieno di sperma Per esperimenti ignoti a tutti E fuggito dopo essersi dimenticato La famosa clausola del contatto della Shinra L'opinione pubblica è sempre divisa su Zack Per il giocatore medio Per il giocatore medio è un mezzo comunale Per affrontare i nemici E per scolastare in giro per il mondo Quattomeno le 3-4 mappe ricercate all'infinito Che lo compongono Per i fan nomuriali invece Un dei personaggi più riusciti e carismatici Ideati da Sommono Mura Mende per i fan classici E un abominio che andrebbe sciolto nell'acido Tutte cose che fanno intuire l'alta imparzialità delle fazioni Cloud Strife Lasciato duramente sulla scena di un nuovo titolo Il biondino anche stavolta in persona con il miglior amico di Zack Non che semplice fante Legacy, canne da macello Tuttavia dopo la morte di Zack Cloud si riscatterà diventando il grande eroe Che tutti hanno conosciuto nel settimo capitolo E di cui si sono dimenticati dopo l'immunizzazione Effettuata negli altri titoli della compilation L'utilità della presenza di Cloud viene rivelata presto Difatti le uniche cose che il suo compiere per vede sono Vomitare Infilzare Seyfield con la forza di mille soli Venire infilzato a sua volta E poi venire eseguiti dei soldati che volevano ucciderlo Ma non l'hanno fatto credendo che fosse già morto Quando invece era stato fatto di Marco Tutto qui Molto utile ai fini del profanimento del personaggio, vero? Angel No, Angel Howley Angel mi imposa con la Buster's World Mentore di Zack E lui regalare... No, mentore di... Vabbè E lui regalare qualcuno indirizzabile noto come Buster's World E poi c'è tutto quello che mi hai detto su di lui Ah sì, è il mio amico di Seyfield e Genesis E con ora ammazza il tempo scandandosi in rapporti a tre Nella sala d'attestamento della Shinra Oltre la bassa caratterizzazione Angel riesce poi non solo a sparire e diventare malvagio senza motivo Ma a farsi crescere delle ali a caso Crade dei cloni che non gli semigliano per niente E trasformarsi in un obbobbio che spaventerebbe anche la mente di Lovecraft Riuscendo però a tornare umano tutto in tempo per dire il classico discorso L'amatica Zack più fatto prima di schiattare Genesis Rhapsodos Irritante Detestabile Ancora peggio di Malavenier Sono queste le parole migliori per descrivere questo clone letterale di React In quanto ogni volta che appare l'insulta più antipatico di una spina nel culo La cosa che mi riesce meglio infatti è effetti in continuazione su Prima Loveless Tanto che entro la fine del titolo Il giocatore lo avrà imparato Sì No Lo avrà a memoria in giapponese, inglese e persino in canado africano Tutti lo impiegheranno Lo impiegheranno di smettere di dire cazzate Ma sfortunatamente Genesis non lo fa mai In quanto è semplicemente troppo figo per dare letta che sia Per questo motivo Zack lo mette ripetutamente a tracere per tre volte Le ultime due pentagli di abbastra e svuota le natiche Ma la cosa peggiore che Genesis ha fatto Oltre ad essere responsabile per la pazzia di Sephiroth essere cliffhanger di Delge of Cerberus Lasciando quindi la possibilità a non pure di creare ulteriori sequel Sephiroth Foto di gruppo per novella a 3.000 Lo smith più malvagio di sempre con la sua fedele katana così lunga da divaggiale con il bassocidio di Goku E in questo picco è l'alpatrato errore Tocca a fare parte dello sfigato che vede schiattare al posto dal lato oscuro No, che vede schiattare al posto dal lato oscuro I suoi amici Al punto da chiedersi Se lo possono fare gli altri Perché io no? Infatti il povero Saffiroth impatisce Come sempre credendo che Tissi è sua madre Che genere umano avrebbe sterminato prima del 2012 Non questa storia antica Il problema è che in questo episodio Venne fatto credere che il bianco smith Si è passato al lato oscuro Solo grazie a Genesis Stroncando metà del carattere Ed il carisma nel personaggio Forse naturalmente venne messo subito Annanna da Zack e da Cloud Non prima però di aver rovinato la loro vita Quasi uccidendoli Condannandoli ad anni di inutili sperimentazioni Osho Uno dei super cervelloni della Shinra Famoso per la lista attaccolata da headbanging improvviso E per il livello di umanità pari a bene Meno 9,5 punti E lui è ricordato in continuazione al presidente Shinra La famigliata postiglia nei contatti dei dipendenti E inoltre si diverte a giocare a fare Frankenstein con animali E dei seri umani vari Senza che sia nessun papà impedirglielo In buona sostanza lo zen di qualunque scienziato È proprio Osho a decretare che Zack e Cloud vanno inclusi in laboratorio senza un motivo decente Ma sfortunatamente non sarà possibile affettarli in questo gioco Bisogna aspettare che Cloud formi sull'eco colpetto di merende dopo la morte di Zack Fino all'allora Osho potrà continuare a fare quel cazzo che gli parla e piace Per la gioia di madre natura Erif Gansboloch La ferraia del basso volgo di Mickey che era rimascata da Zack Dopo che qua si ha fatto un volo di 51 metri Ed è salvato miracolosamente le chiappe Tenendo su dei fiori cresciuti a caso Una scena che non ve l'ha mai più ripetuta per il resto di tutta la compilation Per tutto il gioco Erif non fa altro che apprezzare e accudire i suoi fiorellini Dentare di costruire un carrello Che più che un carrello viene fuori una carrozzina Conquivendo dei fiori e rompe la Zack e gli attributi per non pulire un laduncolo del costiere Pure in battaglia è inutile in quanto arriva proprio quando non c'è bisogno di lei Ma magari di un'evocazione Il suo unico effetto è fatta edicolare Zack senza fare un grazie a nemici Rendendo la combinazione degli slot più inutili Tseng Uno dei migliori sottoposti di Tseng è una sua espressione più intimidatoria Il povero impiegato statale è capo di Turks Gli servizi degli agenti segretti della scena che avevano avuto fin troppo spazio in Before Crisis In questo titolo Tseng si limita a fare un'ebrea compostata con Zack In un villaggio chiamato Bananora Ma che solamente non ha banane ma mele bluastre Seng evidente nella presenza di un attore della scena nelle vicinanze Per il resto il cazzare in giacca e cravatta fa solo brevi le pulisti Un'isola di cotto non appena Zack lo chiamano occasionalmente Anche se il soldier si trova in una caverna ed è bacato dalla Shinra Ed è il simbolo della mancanza di coerenze in questo titolo Kiss Ney La gente segretta è rimarcata da Zack In realtà è stata pescata a casa per i Turks di Before Crisis Mediante un biglietto della lotteria truccato per fare un cammino che non porti di violenza alla trama La sua utilità nella storia quindi è presto che inutile Tant'è che non appare più in tutta la compilation Conscia che fare ciò rovinerebbe la sua carriera nel mondo dei DDR Per il resto Kiss Ney si limita in battaglia a dare il suo sostegno a Zack Ulando ce la puoi falcerà Blaggiano quindi spuduratamente Piaggio del Bradipo Minerva Una specie di divinità messa così per essere il super boss di turno Infatti non si capisce che ci faccia Non è perché non appassi negli altri episodi della compilation La si vede giusto una volta mentre disintegra Genesis con solo un battito di ciglia Ma la si può affrontare come boss secondario dopo tutte le 17 miserie secondarie Ovviamente il giocatore medio non riuscirà mai a sconfiggerla E pertanto dovrà cercarsi nel mezzo della rete una soluzione per il battaglia in 5 secondi